Se qualcun altro vuol sedere nel coro dello spazio, così non mi faccio troppi scrupoli, vorrei essere sintetico ma non lo so, non lo so. E la bellezza della parola che continuiamo ad ascoltare, a meditare, a contemplare, è una bellezza che ti affascina. Mi piacerebbe quasi umanamente raffigurarla come l'amore tra un uomo e una donna che quando si sposano sono innamorati, si guardano, si piacciono, poi passano i giorni e non è che dice che sei diventata una ciabatta, sei diventato uno scarpone, no. E più si impara a guardarsi per quello che si è, cioè come un amore di un cammino insieme e più si troveranno le energie per affrontare qualunque cosa. Più si guarda l'altro secondo la propria idea e dopo poco, poco, sempre meno mi verrebbe da dire, si trovano delle buone motivazioni per rimandarsi. Bene, questo è anche il rapporto con Dio, che più si impara a camminare insieme, ad ascoltare, a sentire l'amore che Lui ha per me, ed è un amore che mi rende ancora più amabile. Secondo Lui, tanto più sentirò le motivazioni, la forza, l'attrazione a vivere questo mistero. E non mi sono preso dietro il foglietto, ma c'ho dietro il cellulare, perché vorrei riprendere un attimo l'orazione che abbiamo fatto, perché spesso quell'orazione che si chiama colletta, quella che si fa subito prima delle letture, l'avete nel foglietto e se volete guardare. E' un'orazione che potrebbe essere un po' programmatica per questa domenica. Oddio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto. Unica fonte. Voi ogni tanto vi potete chiedere dove vado ad attingere, perché ho bisogno, c'ho sete. Unica fonte di ogni dono perfetto. Ogni dono, questo lo diceva anche San Giacomo nella sua lettera, viene dall'alto, dal Padre della Luce. Ogni dono. Unica fonte di ogni dono perfetto. Suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede. Come fa a suscitare Dio l'amore verso di Lui. E questa è la scoperta di chi è Gesù. E oggi vorrei entrare un attimino su questo aspetto. Perché questo poi ravviva la nostra fede. perché questo amore, questo germe del bene, possa con la sua grazia, con il suo aiuto, maturare fino alla sua pienezza. Noi spesso ci accontentiamo qualche bocciolo. E invece la vita cristiana non è altro che far maturare questo amore che il Signore continuamente ci dona. Ecco la parola che scende dentro di noi che deve però maturare. Perché se no le nostre opere, la nostra vita non corrisponde e quindi ci sembra, si sente che è mancante. Manchiamo di tante cose. E oggi per questo abbiamo un testimone autorevole che vi vorrei presentare che si chiama Pietro. Domenica scorsa qualcuno ricorderà Pietro quando Gesù dice voi chi dite che io sia aveva detto tu sei il Cristo il figlio di Dio e Gesù beato te Simone figlio di Giona perché né sangue né carne ma il padre mio te lo ha rivelato e io ti dico tu sei Pietro ricordate non ve la ripeto tutto eh però per dire che c'era già una dichiarazione mamma mia un cartellone questo Pietro qui questo Pietro qui ha ascoltato il padre beato te se tu ascolti il padre sarai felice nella tua vita e qui oggi ci troviamo che Pietro si mette a sgridare Gesù a sgridarlo perché 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 non vuole vuole escludere che Gesù dia la vita venga ripudiato ricusato e subisca la passione viva una condanna a morte sia crocifisso e questo glielo dice apertamente allora vorrei dirvi questo perché non crediate che sia successo soltanto a Pietro quella volta lì io non so quante volte al giorno ci succeda a tutti a tutti ci succede adesso non so se esplicitamente o implicitamente qualche volta avremmo detto al Signore tu che sei onnipotente ma sto coronavirus non c'avevi proprio nessun'altra idea cavaccio non vedi come siamo messi male ogni volta che pensiamo questo dovremmo anche sentire dentro di noi vai dietro a me Satana c'è qualche d'uno ho sentito un politico che si è anche attentato a dire che questa è una maledizione di Dio non sapete dove gliela metterei questa affermazione non immaginatelo perché questa affermazione non è secondo il Dio di Gesù Cristo sia chiaro e non perché appartenga un partito o un altro partito è questa affermazione in sé che non è secondo Dio d'accordo? ci tengo a dirlo perché qua dei vendicativi dei purificatori ne sorgono tutti i giorni ma non sono secondo il cuore di Dio questo brano del Vangelo ci fa vedere come è il cuore di Dio è Gesù che ce lo fa vedere e ci dice che nonostante la nostra volontà diversa lui ci ama nonostante noi lo perseguitiamo e lo crocifiggiamo lui ci ama è questo che Pietro e ciascuno di noi non vuol capirlo vorremmo un Dio che tutto sommato si comportasse bene cioè io mi sforzo mi hanno detto no? fin da bambini ci hanno detto il catechismo che bisogna essere buoni bravi ma no non è questo il cuore del cristianesimo anche perché se no beh comunque siamo su una buona strada per chiudere bottega cioè abbiamo un'idea di buonismo che in realtà non è evangelico sarebbe bello ripensare anche in qui tutto il catechismo non in quella direzione ma in un'altra direzione la direzione qual è? è che liberamente ci sta scegliendo in un atto d'amore anche se noi spesso lo rimandiamo lo rinneghiamo per questo è ancora più importante e bello che questa idea di Pietro Pietro chi è? uno perfetto? no Pietro è uno scalcinato però è un appassionato è uno scalcinato un attimo prima ti fa una bellissima professione di fede e l'attimo dopo sta dicendo a Gesù che sta sbagliando te lo dico io vai dietro vai dietro non lo sta mandando via vai dietro cioè cammina sulle mie orme questa è la vita del discepolo e sarà che ad essere profeti come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura si prendono tante di quelle mazzate e Geremia ce la fa vedere no? e qua lo dice il Signore mi hai sedotto cioè io ti vengo dietro perché io al tuo amore ci credo mi sono lasciato sedurre tu mi hai mi hai innamorato hai prevalso su di me su una mia volontà che è vacillante però io ho sentito il tuo amore e questo mi ha sedotto e sono diventato e sono diventato per questo un motivo di derisione ogni giorno ognuno si fa beffe di me allora questo deve essere per noi un vero monito che seguire il Signore non è avere la benedizione cioè che ho la salute che abbiamo stiamo bene e che poi boh poi vedremo come andrà quella non è la vita cristiana quella è la vita comoda ma comoda verso che cosa dove è direzionata allora così mi avvio ad una conclusione mi avvio quello che Pietro sperimenta in questo nuovo incontro con Gesù sperimenta che il suo è un credo che va convertito c'è bisogno di una conversione un volgersi verso una via nuova che è una via di comunione quella via che Gesù stesso sta percorrendo una via di comunione che parte da un dono di sé non dal prendere più che posso in giro quello che mi fa comodo per andare avanti allora questa è l'attenzione che possiamo ravvivare oggi è il Signore che è morto ed è risorto noi questo lo crediamo però non abbiamo ancora capito cos'è risurrezione adesso quando arriveremo col battesimo per celeste è perché nel battesimo ci viene proprio consegnato questo seme e con un impegno vivilo vivilo e questo diventerà questo albero meraviglioso che porta frutti perché il viverlo è spendila la vita non te la tenere da una parte e il Vangelo ce lo diceva chi vuole salvare la sua vita la perderà chi vuole salvarla cioè semplicemente trovare le sue comodità in questo mondo perché poi bisogna star bene ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà e in questo senso vorrei dirvi dirmi e dirci che cosa vuol dire perdere la vita perché a volte sentiamo questo che amare qualche d'uno che non ti ama non soltanto è fatica ma sembra che non porti nessun frutto allora sai che ti dico ti scarto me ne cerco un altro se così avesse fatto il Signore con noi se ne sarebbe salvato uno dico uno eh l'amore è questa volontà di donarsi ma non perché l'altro faccia come dico io perché già in questo dono io sento e vivo quello che è la vita nuova e cioè un morire a se stessi certo ma per avere un molto di più allora questo è l'idea che spesso noi rifiutiamo con il concetto di croce eppure la manifestazione di chi è Dio noi ce l'abbiamo lì che quando noi lo eliminiamo lui si dona a te si donava anche prima solo che non te ne accorgevi in quel momento e in quel momento e sale sulla ferita brucia nel momento in cui tu senti che lo rifiuti e lui ti sta amando lo stesso te ne accorgi anche con le persone che hai attorno se uno ti ama così in questo i rapporti familiari sono un luogo più evidente rapporto tra genitori e figli rapporto tra marito e moglie se quello ti continua ad amare nel momento in cui tu lo stai crocifiggendo e ti ama davvero e mette la sua vita il tuo non amare la croce dell'altro per te comunque è un segno di salvezza questo non è un invito a crocefiggerci gli uni gli altri sia ben inteso non ci sforziamo su questo siamo già bravissimi ma è l'inverso è l'occasione per capire che l'amore non si ferma nel momento in cui non è riamato allora concludo perché questo è l'atto con cui il Signore si sta donando anche oggi a noi questo è un anticipo della vita nuova che il Signore ci dà se volete è il motivo per cui ci continua ad invitare a messa a scoprire che la messa è il dono della sua vita per ciascuno di noi perché uno dovrebbe andare a messa a volte ce lo chiediamo perché non vediamo allora che finisca di solito a meno da bambini quando finisce appena si entra i bimbi dicono quanto dura quando finisce quando andiamo a casa quando usciamo poi dopo un po' lo fanno anche i grandi non soltanto i piccoli beh se volete la messa è questo è una continua scoperta di come siamo amati da me ne freghisti e quando ti accorgi di questo tu dici ma come fa perché perché ho bisogno di viverlo anche nelle mie relazioni allora ripercorriamo con un cuore aperto questo dono che Gesù ci fa questa vita nuova che è pronto a donarci questo ci darà la forza di prendere la croce come fa lui e così spendo l'ultima l'ultima davvero parola riguardo al fare la comunione perché qui ci sono molte teorie chi è che può fare la comunione e chi può e chi non può farla spesso questo discorso è proprio anticristiano non ha a che fare con Gesù Cristo perché tutti quanti se non sbaglio diciamo Signore non sono degno di partecipare la tua mensa ma di soltanto una parola io sarò salvato diciamo tutti allora qual è il mio invito se vogliamo prendere la croce non possiamo farlo con la presunzione di essere bravi non ce n'è e se il Signore ci sta invitando a prendere la croce è importante che lo ascoltiamo se no non capiamo allora il mio invito è questo viviamo l'Eucaristia fino in fondo anche con la comunione eucaristica qui abbiamo la fortuna addirittura siamo in tre preti quindi se uno ha l'urgenza anche di confessarsi la possibilità c'è e ce n'è davvero tutti i sabati ma anche su appuntamento nel caso in cui uno non riesca ma tenete conto di qual è l'invito del Signore se vuoi fare la comunione tu sei sempre invitato ma se vuoi portare la croce senza questa comunione senza quest'amore che ti porta gratuitamente con quale forza lo farai chiediamocelo con quale forza non ci sono bravi ci sono solo figli e chi è figlio è pronto a entrare in questa comunione e chi non si sente figlio resta fuori e giudica allora come assemblea di figli di Dio io vi vorrei soltanto ricordare questo che tutti siamo chiamati a vivere l'Eucarestia per poter vivere l'amore sino alla fine ciascuno portando la croce dietro Gesù l'Eucarestia l'Eucarestia l'Eucarestia